Installato ad Acciaroli un monumento digitale in realtà aumentata in ricordo del compianto. Sindaco Pescatore, l'opera è stata donata al Comune di Pollica dal cilentano Marco del Sorbo, social media manager e digital strategist che si propone, attraverso la realizzazione di progetti di innovazione digitale, di incrementare le iniziative a sostegno della cultura del territorio. Per visualizzare il monumento digitale sarà necessario recarsi nel borgo marinaro di Acciaroli e puntare la fotocamera del cellulare su un QR code applicato su un'apposita installazione in un punto preciso della scogliera acciarolese. Comparirà, come per magia, un'istantanea digitale, una cornice tridimensionale all'interno della quale apparirà l'immagine ormai diventata iconica del Sindaco Pescatore mentre brinda con il mare blu del Cilento. L'opera è fluttuante, leggera nell'aria ed è posizionabile nello spazio mediante l'utilizzo della realtà aumentata a qualsiasi ora ma esclusivamente ad Acciaroli. Da tempo desideravo realizzare un'opera del genere, ha detto Marco del Sorbo. Ho avvertito forte il desiderio, in quanto navigante dell'universo digital, di dare il mio personale contributo alla bellezza della mia terra e alle personalità che l'hanno brillantemente rappresentata. Dopo il successo del progetto Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, ho compreso che questo modo di comunicare era funzionale al raggiungimento e al conseguente coinvolgimento di un pubblico più giovane, a volte poco coinvolto da alcune tematiche. È nato dunque Monumentalismo Digitale, un nuovo smart concept che avrà lo scopo di creare una vera corrente artistica inedita che coinvolgerà tutti gli artigiani del mondo digitale, capaci di realizzare opere monumentali attraverso strumenti innovativi del XXI secolo. Ho voluto dedicare il primo di questi monumenti ad una persona estremamente importante per me e per l'intera comunità Angelo Vassallo. Le persone come le idee vivono nel cuore e nella mente di chi le ama, è quanto ha dichiarato Marco del Sorbo.